Prendere il largo sempre pur riconoscendo le proprie fragilità perché solo abbandonando gli egoismi e le paure è possibile divenire costruttori della pace e promotori della vita. Alla moltitudine di persone che si sono radunate nel parco Simon Bolivar per la messa, un vero oceano di uomini e donne, Papa Francesco ha rivolto un incoraggiamento senza tempo, quello di gettare le reti e andare in mare aperto, dove si fa più urgente una risposta concreta dinanzi alle tenebre dell'ingiustizia e dell'inequità sociale, alle tenebre del mancato rispetto per la vita umana che miete quotidianamente l'esistenza di tanti innocenti, alle tenebre della sete di vendetta e di odio che macchia di sangue umano le mani di coloro che si fanno giustizia da soli. La risolutezza dell'invito di Gesù interpella oggi anche la Colombia, concluso il Pontefice, affinché diventi una rete robusta che raccolga tutti nell'unità, lavorando per la difesa e la cura della vita umana, particolarmente quando è più fragile e vulnerabile nel seno materno, nell'infanzia, nella vecchiaia, nelle condizioni di disabilità e nelle situazioni di emarginazione sociale.